Sentite questa. A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori della patria, senza pregiudizi né preconcetti, facciamo appello perché uniti insieme propugnino nella loro interezza gli ideali di giustizia e libertà. Suona strano? Forse non tanto per certe parole che non usiamo più, ma per il tono, la sprezzatura, con cui esattamente cent'anni fa, il 18 gennaio del 1919, un prete siciliano, insieme a un gruppo di notabili, lancia un manifesto, attorno al quale riunire il meglio dell'Italia appena uscita dalla guerra. Non un partito cattolico, ma popolare, perché cattolico vuol dire universale, mentre partito vuol dire divisione, spiega Don Luigi Sturzo da Caltagirone, che non ha paura di schierarsi, di entrare nel conflitto democratico con la forza dei sogni e la bontà delle idee. Rifiuto degli imperialismi e disarma universale, uguaglianza del lavoro, riforma di burocrazia e fisco, decentramento amministrativo, libertà di impresa e libertà religiosa, mezzogiorno, semplificazione legislativa, riforma previdenziale e sociale. Questi i punti di un programma così fresco che non si sa se entusiasmarsi per la visione di Sturzo e amici o deprimersi perché cent'anni dopo siamo ancora qui a girarci intorno. Nazione e società delle nazioni, società e cristianesimo. Il progetto politico di Sturzo risponde ai bisogni di allora, ma ci interpella oggi. L'ispirazione ideale rimane sempre attuale, nel senso che Sturzo ci parla della moralizzazione della verità pubblica, dell'impegno politico come atto di amore, della difesa della libertà e della giustizia, di un partito che deve caratterizzarsi come un partito programmatico che attraverso la partecipazione democratica fa sì che tutti i cittadini possono responsabilmente contribuire al bene comune.